Ehi, ciao a tutti ragazzi del JTF Clan, io sono JTF Retentive e quello che vi porto oggi qua sul canale del clan è un nuovo video. Oggi siamo qua con un gameplay fantastico fatto dal nostro Explosive. Si tratta di ben 54 uccisioni di fila fatte su deathmatch a squadra e soltanto utilizzando il WMP e il C4 sulla mappa Combine. E' veramente un gameplay bellissimo, difatti è molto difficile realizzare una streak di questo calibro su deathmatch a squadra in quanto comunque i nemici sono comunque 5, cioè sono 6, gli alleati sono 5 e possono rubare le kill. Inoltre ci sono solo 100 uccisioni a disposizione e tu sei completamente da solo, non ti puoi affidare alla squadra per gestirti spawn, serie di uccisioni. In questo caso il nostro Explosive utilizzava UAV, Aether e il nucleo energetico per diciamo mettere in difficoltà i nemici bloccando loro la minimappa, i movimenti e le loro scorestreak con il nucleo energetico che veramente è una streak fortissima. Quindi complimenti al nostro Explosive per aver realizzato questo gameplay, non so se sia la gunstreak più alta su deathmatch a squadra o di qualche cosa, però comunque 54 sono molte ed è fatta anche senza diciamo quel bug che affliggeva la sua connessione, ovvero che lui riusciva a ostare con Nat ristretto le partite e quindi di conseguenza non entrava nei nemici e diciamo giocare con 3 alleati invece che con 6 facilita un attimino le cose. In questo caso invece il nostro Explosive aveva tutta la squadra perché facilmente non era lui lost e quindi diciamo aggiunge ancora un po' più di valore a questo gameplay già di per sé assurdo. Ragazzi oggi vi volevo parlare, visto che non ho tantissimo tempo però comunque diciamo ce n'è un minimo, vi volevo parlare del reveal del trailer multigiocatore di Call of Duty World War 2 che ci sarà alle 3 nei prossimi giorni. Adesso non so di preciso le date però so che in questi giorni alle 3 molto facilmente verrà rilasciato il trailer del multigiocatore e si avranno le prime indiscrezioni su quello che sarà il nuovo Call of Duty World War 2. Quindi diciamo che io sono abbastanza contento per questo perché comunque saprò se dovrò giocare il prossimo anno o no a Call of Duty perché già quest'anno, Call of Duty quest'anno l'ho praticamente saltato. Penso di avere 3 ore di gioco su Infinite Warfare perché come gioco proprio non riesce a prendermi, le sue meccaniche di gioco non mi piacciono tanto. Quindi diciamo l'ho accantonato e preferisco giocare a Call of Duty Black Ops 3 oppure ad altre saghe piuttosto che giocare a Call of Duty Infinite Warfare per 5 minuti e poi togliere il disco perché non mi piace. Quindi speriamo che questo Call of Duty World War 2 sia degno del nome che porta perché comunque penso che dovrà essere per forza la svolta questa per riuscire a far tornare gli amanti della serie. Perché ho visto anche il video di Velox su Code 4 Remastered e diciamo che mi ha anche dato un attimino ispirazione questo, il fatto che lui abbia detto che la community si era spezzettata in 3 parti. Ecco, in teoria la community Call of Duty dovrebbe essere secondo me su un gioco o massimo 2 perché alla fine raga Call of Duty è un gioco che ogni anno si rinnova, ogni anno diciamo ha delle novità, ogni anno è un gioco nuovo. Quindi in teoria per diciamo avere il massimo del profitto sia la casa produttrice che comunque anche per gradire al meglio il gioco la community dovrebbe essere focalizzata su un singolo Call of Duty o come ho detto al massimo su due. In questo caso sono stati rilasciati due Call of Duty quest'anno però nessuno dei due ha preso veramente una buona parte della community dato che molta gente io vedo ancora che gioca a Call of Duty Black Ops 3. Tra cui incluso anche me. Code 4 Remastered non mi è piaciuto troppo perché comunque non è il vero Code 4 però vabbè ovviamente raga questi sono gusti personali e quindi io sto giocando ancora a Black Ops 3 se devo giocare a Call of Duty oppure gioco ai Code precedenti perché devo dire che comunque non mi sono dispiaciuti più di tanto. Niente raga spero che questo video vi sia piaciuto spero che le novità del trailer del multigiocatore mi piacciono a me e anche penso anche a tutti gli altri membri del clan e speriamo che sia di nostro gradimento perché veramente potrebbe segnare veramente o la svolta o la fine della nostra carriera su Call of Duty. Niente raga qui il video è giunto al termine vi chiedo di lasciare un bel numero di like qua sotto passate al canale di Explosive in descrizione e niente bella. Grazie a tutti.